Quasi 700 kg di melassa da narghile sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino. La sostanza è equiparata al tabacco quindi non può essere venduto al di fuori della rete dei tabaccai e con il simbolo dei monopoli di Stato, tanto che la Guardia di Finanza ha stabilito che in questo caso la Cisa Evasa è pari a 48 mila euro. Una sostanza che si sta sempre più diffondendo in seguito alla proliferazione di locali dove questo prodotto da fumo viene consumato. A finire in manette sono state tre persone denunciata a piede libero una quarta. I prodotti di contrabbando sequestrati privi del contrassegno dei monopoli di Stato previsto come per le sigarette, per tutti i prodotti sottoposti ad Acisa nonché dalle indicazioni relative alla nocività per la salute risultano molto insidiosi in quanto il consumo mediante narghile viene comunemente percepito come non pericoloso rispetto ad altri prodotti da fumo al punto da attrarre anche i non fumatori. Il reato di cui dovranno rispondere queste persone sono contrabbando di tabacchi lavorati all'estero. La melassa non può essere comprata neppure online perché anche in questo caso il rischio è la denuncia per contrabbando. 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 è la denuncia per contrabbando.